Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta a Facebook sul sito di Focolari Italia. Da alcuni anni a Primiero viene proposto un forum sull'economia di comunione. Del corso delle prime tre edizioni, insieme a rappresentanti di istituzioni del mondo scientifico e dell'impresa, ci si è interrogati e si sono portate esperienze su un tema importante, un altro modo di fare impresa, avendo come riferimento l'economia di comunione secondo la grande intuizione di Chiara Lubic. Il forum sull'economia di comunione a Primiero ha un significato molto particolare per il contesto dove esso si svolge. Primiero, in particolare Tonadico, furono luoghi molto cari a Chiara Lubic. Qui si svolsero le prime mariapoli negli anni 50. Anche per ricordare questo legame tra il movimento dei Focolari e questi luoghi, si è voluto promuovere un'iniziativa che possa approfondire un'intuizione di Chiara Lubic che oggi mostra tutta la sua straordinaria attualità. Rispetto alle grandi sfide del nostro tempo, è necessaria una diversa economia che metta al centro l'uomo e soprattutto anche la comunità. Ma per continuare il nostro impegno rispetto agli aspetti che ruotano intorno all'economia di comunione, all'economia civile, che riteniamo fondamentali per la nostra realtà e come altre in questo momento si interroga sui grandi temi di uno sviluppo, abbiamo voluto proporre un incontro con il professor Luigino Bruni, che saluto. Un incontro che partirà proprio dalla presentazione della nostra realtà e delle risorse del nostro territorio. Ma prima di iniziare, il presidente della comunità di Primiero, che è il soggetto istituzionale che da anni collabora al forum dell'economia di comunione, è presente per portare il saluto della comunità di Primiero. Roberto Pradel. Saluto a tutti, anche da parte mia, da parte degli amministratori, la nostra comunità è una piccola comunità, ci sono cinque amministrazioni comunali e il saluto lo porto molto volentieri. Sono sempre stato presente a questi forum perché credo che parlare di lavoro sia sempre importante. Al giorno d'oggi si muore ancora di lavoro, pur essendo in una società cosiddetta avanzata e questo è chiaramente di per se stesso un problema, si muore spesso di lavoro, troppo spesso di lavoro. È vero che di lavoro vi è necessità, è vero che il lavoro è fondamentale per tutti noi per avere dignità. È vero che il libero mercato non può dare da solo la risposta a tutti i problemi lavorativi e quindi come comunità io personalmente sostengo e sosterrò sempre questi ragionamenti, questo pensiero che vuole lanciare dei segnali perché vi sia un modo più giusto, un modo più corretto e con maggiori valori di approccio nel mondo lavorativo. Per cui ringrazio tutti voi, ringrazio gli organizzatori e il professore per quanto dirà. Grazie a Roberto Pradel, presidente della comunità di Primiero. Un altro soggetto che svolge un ruolo molto importante all'interno del forum dell'economia di comunione che si svolge a Primiero sono le ACRI. È con noi la vicepresidente di ACRI Primiero e componente del Consiglio Provinciale delle ACRI e Deglia Scaletta, alla quale chiediamo anche a lei una salute, una sottolineatura del tema presumo del lavoro perché ACRI su questo aspetto è sempre molto impegnata. Sì, buonasera anche da parte mia. Porto il saluto con piacere delle ACRI di Primiero. Il presidente si scusa ma stasera non può essere presente. Ugo Bettega, presidente di zona e quindi ha delegato me a portare questo saluto. Noi come ACRI Primiero abbiamo sempre collaborato alla realizzazione di questo forum in quanto siamo convinti e condividiamo i principi che sostengono, supportano l'economia di comunione. Un'economia attenta alle persone, al contesto e anche all'ambiente. Quest'anno poi siamo particolarmente interessati in quanto si parla di lavoro in un periodo del tutto particolare in una fase che non sappiamo ancora se parlare di post pandemia o ancora pandemia in essere e quindi è un tema che ci sta a cuore visto che il lavoro è uno dei pilastri di tutta l'azione e l'attività svolta dalle ACRI. Quindi un augurio anche da parte mia di una buona serata e come ACRI siamo attenti a questo tema e cercheremo di far tesoro di quanto stasera viene proposto dal professor Luigino Bruni. Grazie. Grazie Adelia Scaletta di ACRI Primiero. Iniziamo quindi il nostro incontro presentando la realtà di Primiero. Abbiamo chiesto a Bruno Turra, ricercatore sociale che ha già partecipato ad alcune delle edizioni del nostro forum di parlare di Primiero. Buonasera. Tenterò di descrivere un pochino il quadro locale, territoriale, comunitario in una decina di minuti. Ci provo e vorrei parlare, iniziare a parlare delle persone. Parliamo sempre di persone, infine. Su questo territorio vivono 9.683 persone, stando alle statistiche, di cui 333 stranieri. Però abbiamo un tasso di natalità che è particolarmente basso, un'età media della popolazione che è particolarmente alta, perché è intorno ai 47 anni. In più l'indice di vecchiaia è di 188, cioè per i non tecnici vuol dire che ci sono 188 persone superiore ai 65 anni, ogni 100 giovani di età inferiore ai 14 anni. Un dato superiore a quello della media nazionale che è di 184. Allo stesso modo abbiamo un indice di dipendenza strutturale che è di 5 a 9, vale a dire che ogni 100 persone che lavorano ci sono 59 individui a carico, cioè di età inferiore ai 14 anni o superiore ai 65 anni. Già questo di per sé pone per questi territori una sfida, una grande sfida, perché questa struttura demografica, che peraltro è simile a quella nazionale, obbliga a ripensare sia i meccanismi comunitari che quelli sociali, obbliga a ripensare l'economia ed è all'interno del quadro genericamente economico che questo dato può anche diventare abbastanza preoccupante per il futuro. Qui nel 2020, quest'anno, sono state censite 963 imprese, di cui attive 882. Danno lavoro a 3200 persone circa, però c'è stata una diminuzione per effetto di quanto è successo con la pandemia, soprattutto di quasi 400 posti di lavoro. tant'è che i servizi per l'impiego vantano attualmente 750 iscritti circa e questo pone una seconda sfida particolarmente importante, che è appunto quella del lavoro, perché con una struttura demografica di questo tipo, con la rivoluzione digitale dell'automazione in corso, con i cambiamenti nei settori portanti locali, quindi fra poco, questo configura una sfida che è locale, tanto quanto almeno lo è a livello globale. Questo territorio è stato per molti decenni centrato particolarmente sul turismo, non a caso, qui ci sono 147 strutture ricettive, ci sono 19 impianti di risalita, 33 piste, 66 ristoranti e c'è una disponibilità complessiva di quasi 27 mila posti letto. Però anche quest'anno c'è stato un calo, nel 2020 appunto, molto sensibile degli arrivi, ce ne sono stati 83 mila in meno, il 33% in meno rispetto all'anno precedente. E' lo stesso per le presenze, ce ne sono state oltre 400 mila in meno, quindi 31% in meno rispetto agli anni precedenti. Ora, il turismo è stato una colonna importante, la struttura economica è indubbiamente in uno stato che possiamo tranquillamente definire di crisi, per effetto soprattutto di quanto è successo nell'ultimo anno e mezzo. Però, al di là di questo, questa centralità economica e anche sociale del turismo obbliga a ripensare completamente la natura dell'offerta e della proposta commerciale che viene fatta. Chi fa turismo lo sa, oggi i territori devono essere competitivi e per essere competitivi devono avere una fortissima identità, qualcosa attraverso il quale farsi riconoscere sul mercato globale che è estremamente competitivo, estremamente aggressivo. E, se continuiamo sul discorso dell'economia, dobbiamo anche dire che questa economia, l'economia del futuro, l'economia anche del presente, si regge almeno su due variabili chiave, a mio avviso. La prima, quella dell'energia, e la seconda, quella dell'informazione. Aggiungeremo anche un bene comune, fondamentale, che è l'acqua. Per fortuna, su questi tre versanti, energia, informazione ed acqua, questi territori possono vantare sicuramente un ottimo posizionamento. In particolare, per l'acqua, qui ci sono 39 eteri di ghiacciai, si stanno esaurendo purtroppo. Ci sono 20 controlari, piccolini, molti, però c'è tanta acqua e l'acqua è e diventerà nel futuro un bene sempre più prezioso, sempre più importante. Giusto per restare sul locale, l'acqua che scorre nei torrenti di questi territori alimenta buona parte della campagna dell'Alta Padovana, che è una zona agricola estremamente importante. E quindi questi territori hanno anche una responsabilità verso i territori che si trovano a valle per quanto concerne l'acqua. Acqua che peraltro viene utilizzata per la produzione di energia elettrica pulita. E qui non possiamo non segnalare il tema energetico che vede un'azienda, un'azienda pubblica, seppure di diritto privato, che sta al centro della politica ambientale locale. L'azienda si chiama ACSM, da lavoro a 74 persone, è nata nel 1902 e vede come proprietari 10 comuni. 10 comuni. È dotata di 9 centrali elettriche, 4 centrali su acquedotti, un impianto fotovoltaico, due impianti di teleriscaldamento ed è in grado di essere, anche se per l'Istalia è piuttosto strano, un bene pubblico che è altamente redditivo. L'incasso registrato, il fatturato, i ricavi anzi, scusate, i registrati quest'anno sfiorano i 48 milioni di euro con un esercizio utile di esercizio di 1,9 milioni. Il che vuol dire è che nel 2020 sono stati distribuiti dividendi per i comuni proprietari di 1,2 milioni di euro che sono, stiamo parlando di entrate molto importanti per comuni così piccoli come quelli che ci trovano da queste parti. E qui veniamo ad una sfida ulteriore perché l'energia, l'energia pulita, è il fiore all'occhiello di questa comunità che già oggi potrebbe quasi essere libera dall'uso di tutte le risorse non rinnovabili. Può vantare una mobilità elettrica abbastanza sostenuta in fase di crescita ricordando anche che tutti gli impianti a fune di fatti sono alimentati da energia. Ma anche qui la sfida diventa particolarmente impegnativa poiché vi è un grande problema un grande problema connesso alla struttura dei mercati dell'energia perché è previsto che le concessioni idroelettriche medie e piccole sulle quali si regge la possibilità di costruire e di far funzionare le centrali le concessioni di come dicevo sono in scadenza e andranno a gara e nelle gare come ben si dice possono vincere possono vincere tutti. Il rischio è pertanto che questo bene che sta qui da oltre un secolo possa potenzialmente essere in qualche modo concedetemi termine un po' pessimista espropriato cioè uscire dal controllo della comunità. Ora tutto questo tutto questo ci rimanda ad un'ultima sfida una sfida finale che è davvero impegnativa vale a dire quella della gestione dei beni comuni e la costruzione dei beni relazionali che soprattutto nelle piccole comunità sono assolutamente fondamentali. Oggi come oggi queste sei sfide che ho brevissimamente citato rappresentano un orizzonte che deve essere assolutamente fronteggiato dal punto di vista politico dal punto di vista amministrativo ma deve essere fronteggiato non solo localmente deve essere fronteggiato con delle strategie che non possono che avere delle ricadute o meglio delle implicazioni che non solo non sono esclusivamente locali. per quanto riguarda la gestione poi di questi beni comuni perché l'idea di un'ACSM di una municipalizzata pubblica andava a suo tempo configurando l'idea di un bene comune di grande valore spesse volte è contraria alla logica mercatista che oggi è dominata. Ora chiuderei questa brevissima presentazione perché ho deciso di stare nei dieci minuti e ci sto onorando questo impegno Walter per cui chiudo e ti rilascio la parola. Mi senti Walter? No 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 Bruno vai avanti allora Certo Stavo dicendo che entro i dieci minuti concessi ho il mio breve intervento Grazie grazie a Bruno Turra per come ha presentato Primiero soffermandosi su alcune caratteristiche sui modelli innovativi e lanciando anche dei termini molto importanti come beni comuni e beni relazionali ed ora l'incontro l'avevo preannunciato verte sull'intervento del professor Luigino Bruni Luigino Bruni è economista e storico del pensiero economico docente di economia politica responsabile scientifico dell'incontro internazionale di giovani economisti e imprenditori di Assisi l'economia di Francesco che appunto ha lanciato il grande tema dell'economia civile e dell'economia di comunione scrive anche su avvenire e famiglia cristiana quindi lascerei a lei messaggero di Sant'Antonio visto che siamo in zona messaggero di Sant'Antonio anche le lascerei quindi professor Bruni la parola le abbiamo presentato la nostra realtà di Primiero essendo appunto l'organizzazione del forum dell'economia di Primiero e quindi lascio a lei proprio di introdurci sul grande tema di grande attualità che è appunto l'economia civile di comunione rispetto alle sfide di oggi bene grazie molte grazie a tutti in primis ringrazio Giovanni e i focolari di Trento che mi hanno che mi hanno contattato per questo forum e vi ringrazio anche per aver creduto in questa idea dell'economia di comunione di averci fatto un forum e anche mi piace molto lo spirito che è uno spirito condiviso col territorio perché l'economia di comunione anche se nasce dal momento dei focolari è un bene comune a proposito e quindi vedere che che sta a cuore al territorio alle acli alla a realtà diciamo della solidarietà civile del primiero per me davvero è una gioia perché è quanto cercherò di fare in questi 23 anni nei quali mi sono occupato su incarico di Chiara Lubic e delle comunioni di comunione fin dal 1998 quindi davvero grazie grazie anche al al dottor Turra per per le cose che ha detto che sono molto interessanti innanzitutto complimenti per tutti questi dati così freschi e aggiornati sulle presenze di quest'anno i cali la mortalità e anche le presenze che denota anche un'attenzione uno studio serio che parte dai dati che sono sempre il primo punto di partenza del nostro mestiere quindi grazie e io così mi inserisco in questo concerto faccio la mia parte ma già avete detto molte cose tutte molto importanti io continuo chiaramente non sono della vostra terra però nel movimento del focolare di cui faccio parte quando ero ragazzo avevo 15 anni fila di primiero e primiero sono una parola che da sola dice moltissime cose ogni diciamo ogni focolarino almeno quelli della mia generazione conoscono fila di primiero perché è legata a dieci anni straordinari dei primi tempi del movimento del focolare cioè senza senza l'esperienza del 49 al 59 a primiero non ci sarebbe il movimento del focolare certamente non ci sarebbe nella misura nella qualità nella quantità nella profondità intensità che ha avuto dal 49 al 59 in poi quindi ogni volta che noi sentiamo questa parola è un nome di quelli come per i francescani e Sisi cioè sono parole è un luogo particolarmente evocativo particolarmente teoforo particolarmente importante quindi sono davvero lieto di dare il mio contributo su un tema chiaramente complesso a proposito di acqua mi colpiva che sono tornato a casa quindi i miei genitori nelle Marche nella mezza montagna marchigiana e la fontana diciamo la sorgente di casa quella che da generazioni portava acqua al nostro orto quest'anno ha smesso di dare acqua uno dice i cambiamenti climatici sembrano cose che riguardano l'Africa poi riguardano la casa tua e mio padre è disperato perché non sa più come dare l'acqua all'orto che sembrano cose piccole ma è uno che fa questo come principale attività ora che è pensionato soprattutto c'è una tristezza in queste cose cioè noi non capiamo perché la gente ha reagito così fortemente negli stili di vita ai cambiamenti climatici senza considerare la tristezza che fanno le persone vedere il clima che cambia quando cambia il tuo clima e non solo il clima degli altri c'è qualcosa quando non c'è più la neve quando si sciogliono gli acciai ma non perché siamo ci ricordiamo l'infanzia la neve c'è anche questo ma c'è di più c'è qualche cosa di importante che si spezza e quindi quando il cambiamento climatico tocca la tua la tua casa la tua vita cominciano i cambiamenti in fondo la differenza tra quanto sta accadendo negli ultimi anni proprio Francesco a Greta Thunberg tutto questo movimento giovanile è stupendo e quanto facevamo noi della mia generazione sul clima è che oggi la gente è triste per questo c'è la differenza che c'è una percezione personale del cambiamento e non solo astratta dei orsi polari c'è anche quello ma c'è il mio clima la mia fontanella che non dà più acqua e che quindi aumenta l'effetto nelle persone comunque sono contento che da voi ce n'è ancora tanta di acqua e quindi custoditela e conservatela perché l'acqua non è un bene infinito anche dove ce n'è tanta se non è custodita siccome l'acqua è un bene comune come tutti i beni comuni sono sottoposti alla tragedia come sappiamo cioè di essere distrutti senza volerlo se non c'è cura se non passano da beni di nessuno a beni di tutti allora avete scelto un titolo impegnativo cioè il lavoro dopo il covid avete aggiunto nel titolo costi e benefici per le imprese del covid io di benefici ne vedo davvero pochi diciamo da questo covid forse altro per i morti che ci sono stati è difficile parlare di benefici quando abbiamo avuto un dolore infinito tutti ognuno di noi ha avuto almeno un amico un parente che è morto e che non doveva morire perché la morte non è di per sé un problema se arriva nel momento giusto quando arriva fuori tempo come dice il coelet c'è un tempo per ogni cosa c'è un tempo anche per morire ma c'è un tempo giusto questo tempo favorevole dicevano i greci kairos il momentum dei latini cioè ogni cosa c'è il suo tempo quindi quando uno muore e non deve morire non è bene anche se ha 90 anni perché perché deve morire quando è il suo momento e quindi abbiamo visto troppa gente morire che non doveva morire troppa gente soffrire e chi è morto oltre a non morire bene è morto da solo spesso soprattutto nella prima ondata ma anche nella seconda senza familiari e noi sappiamo cosa vuol dire questo cioè noi italiani che abbiamo una storia comunitaria cosa vuol dire morire senza i figli senza le figlie senza mogli e mariti quindi è difficile parlare dei benefici del coelet dobbiamo prenderlo come un dato cioè che il mondo è fatto anche di pandemie il passato chi di voi conosce un po' di storia sa che la storia dell'umanità è stata segnata da tantissime pandemie ma non solo segnata cioè noi abbiamo delle istituzioni che sono nate dopo pandemie abbiamo intere comunità abbiamo intere città che sono nate sulle colline e non nelle paludi perché c'era la peste perché cioè abbiamo noi potremmo raccontare qualcuno l'ha fatto Diamond per esempio questo storico la storia dell'umanità come storia di pandemie cioè come peste che arrivava da varie parti del mondo e che tante norme di igiene che noi abbiamo abbiamo assunto senza pensarci troppo sono nate in seguito e anche cose belle sono nate in seguito alla pandemia non ci dimentichiamo che la misericordia la più grande la prima le misericordie di Firenze la prima grande organizzazione che oggi diremmo di economia sociale di non profit dell'Italia e dell'Europa nasce in seguito alla peste di Firenze quindi ci sono state anche delle cose che che l'umanità ha imparato che ha capito quindi noi speriamo che da questa grande disgrazia qualcosa impareremo come dice il Papa la cosa peggiore che può accadere dopo questa pandemia è che usciamo come siamo entrati senza imparare nulla da questo grande dolore quindi questo è un grande tema cioè è un male è un male comune però il male comune ci ha fatto capire il bene comune cioè questo bene comune se voi ci fate caso anche ascoltando i giornali leggendo i giornali i telegiornali ma cos'è che la parola bene comune fino a qualche anno fa era una parola che nessuno usava se uno faceva un convegno qualche anno fa il bene comune e l'economia non arriva a nessuno perché era una parola logora una parola vecchia una parola un po' retorica questo bene comune ma cos'è il bene dei rubi il bene degli agnelli cioè il bene dei ricchi o dei poveri chi è questo bene comune dopo la pandemia il male comune ci ha fatto scoprire che esiste un bene comune che non possiede altro che quello di sconfiggerlo questo virus e anche se abbiamo un 10-15% di invincibili diciamo oppositori del virus dei vaccini nessun partito nessuna azione politica di un paese ha l'85% dei voti quindi è sempre un enorme successo perché cioè ci voleva una cosa così grave per farci unire all'85% noi italiani che siamo il paese dei campanili che su ogni cosa anche sulle vittorie ecco siamo forse soltanto quelli europei e li abbiamo raggiunti in 90 ma nemmeno lì anche lì abbiamo avuto gente di scattista che era scontenta quindi per dire forse forse ora con diciamo Jacobs e Tamberi siamo arrivati di nuovo a livelli arti allora che cosa però possiamo apprendere pensiamo a una cosa diciamo analoga anche se non è pregonabile quando sembra che i dinosauri milioni di anni fa si siano istinti sembra che qui noi abbiamo moltissimi dati a differenza delle presenze in primiero sembra che i dinosauri siano istinti per una grande meteorite caduta nell'attuale Golfo del Messico cioè sembra e poi sai ci sono anche altre teorie ma questa ancora è la più accreditata e quindi un enorme cambiamento climatico dovuto a un raffreddamento del clima per una colta che si è creata per molto tempo nell'atmosfera e quindi sono morti si sono estinti i dinosauri ma sono nati si sono sviluppati i piccoli mammiferi da cui siamo nati dopo qualche milione di anni noi che cosa voglio dire che le grandi crisi sono anche dei momenti di distruzione eclettrice dove certe forme non funzionano più e ne funzionano altre e cominciano a nascere altre forme organizzative altre forme altri modi di lavorare questo già lo stiamo vedendo noi siamo accorti che forse possiamo lavorare un po' di più a casa e un po' di meno andare tutti i giorni da Primiero a Trento con la macchina inquinare per fare magari una riunione che possiamo fare benissimo via Zoom e magari ci siamo accorti che avevamo organizzato il mondo del lavoro molto centrato sulle città e poco sui piccoli paesi in fondo questa crisi ciò che ha sviluppato in termini di tecnologia è anche una grande chance per i piccoli paesi per le valli montane dove si può lavorare con una buona linea internet si può lavorare stando magari in queste comunità dedicando meno tempo agli spostamenti e più tempo alla comunità ai rapporti di vicinato ai rapporti diciamo con i beni comuni e con i beni comuni abbiamo capito l'importanza della cura da questa crisi questa parola un po' anche qui triste un po' un po' logorata anche da una cura sbagliata che abbiamo imposto per troppi secoli prima i servi agli schiavi e poi alle donne che hanno dovuto occuparsi di cura senza averlo scelto spesso ma come io quando torno a casa che ho mia madre che sta ancora bene vedo che abbiamo costruito un mondo nella generazione passata quella di mio nonno di mio padre troppo sbilanciato sulle donne in termini di cura ancora oggi se io penso che mia sorella oltre ad avere due figli a lavorare deve occuparsi di suo marito che non è molto portato per la casa dei figli dei genitori di se stessa ed è qualcosa che io dico ma come abbiamo fatto a costruire un mondo così asimmetrico in termini di cura cioè dove se uno nasce uomo e soprattutto se nasceva uomo faceva altre cose non dico che siamo stati tutti pigri e facevamo nulla però abbiamo diciamo lasciato scaricato bambini anziani e anche lavori molto a volte non molto non molto vocazionali come pulire e spazzare eccetera alle donne quindi questo è sicuramente un tempo di grande cambiamento dove va ripensato il rapporto con la cura ci siamo accorti che cos'è un ospedale per chi c'è stato ci siamo accorti quanta cura abbiamo dovuto rinventarci dentro casa perché se tu porti il lavoro dentro casa e quindi queste case si riempiono di uffici c'è questo spazio familiare esplode e diventa densissimo perché i bambini devono fare collegamenti per la scuola i genitori devono lavorare la casa è sempre la stessa per il 90% dei casi e delle case tu capisci che la casa va bisogna starci di più e dobbiamo imparare starci anche occupandoci dei rapporti non possiamo entrare troppo in conflitto dobbiamo rimparare a stare insieme quando ci si sta di più questo lo abbiamo fatto con il lockdown lo stiamo facendo anche ora e lo faremo anche dopo perché la casa è tornata centrale più casa e meno ufficio la gente ha riscoperto la casa tantissimi tanti di noi me compreso abbiamo visto dei pezzi di casa che avevamo mai visto prima perché siamo stati per un anno e mezzo molto dentro casa io c'era molto poco e abbiamo magari sistemato riparato abbiamo scoperto dei luoghi di questa casa che magari erano poco visti ora non voglio perché il tempo è poco non voglio parlare troppo di questa cosa però sicuramente il tema della cura e il tema dei beni relazionali come sono redetti dal dottore prima di me sono dei grandi temi su cui siamo chiamati a confrontarci oggi cioè che si vive sicuramente di merci si vive quindi di beni acquistati sui mercati ma si vive anche e certi momenti soprattutto di beni relazionali di amicizia di incontri di abbracci di attenzione di cura eccetera allora come sta cambiando il lavoro qui insomma dicevo prima la comunità sta assumendo un ruolo importante e le comunità piccole stanno assumendo un ruolo importante questo oggi è una grande chance per realtà che è per i piccoli centri se uno oggi va a Milano fa impressione di vedere questi questi grandi grattacieli io penso che si svolteranno cioè noi pensavamo che si svolteranno meno io no? quando si va nelle grandi città italiane e vedi tutte queste chiese uno pensava certo fra qualche anno sono tutte vuote bene insomma è probabile che si svolteranno prima i grattacieli di Milano pensati per gli uffici del Duomo cioè perché abbiamo costruito delle città pensando che la gente doveva andare tutti i grattacieli tutti i giorni a lavorare questi enormi palazzoni che oggi Milano fa impressione quanto sia io che tanti anni ci ho lavorato e ci vedo spesso che non si vede la gente tutto ciò che è attorno a queste perché ci sono dei cambiamenti di stato che non torni facilmente indietro cioè se tu hai cominciato a lavorare a casa e puoi evitarti due ore di traffico al giorno e puoi rilassarti un pochettino di più nelle pause eccetera difficilmente torni se non ti costringono in ufficio perché sono dei cambiamenti dove si si accorge che si lavora meglio per certe cose noi dovremmo anche parlare molto che cosa si può fare a casa che cosa non si può fare perché io ho anche tanta voglia di tornare a fare lezioni in classe con gli studenti perché puoi fare tante cose con Zoom ma non puoi fare alcune cose molto importanti ad esempio tutti lo sappiamo insomma però alcune cose sì quindi c'è una nuova chance quindi c'è una nuova chance per le comunità perché la comunità sta tornando in un modo totalmente imprevisto posmoderno non romantico non nel senso di 30 anni fa delle sacre della salsiccia ma la comunità c'è anche quello ma sta tornando in un modo totalmente diverso cioè come il luogo del lavoro il luogo dell'impresa e quindi quel motto che andava molto di moda negli anni 90 pensa globalmente e agisci localmente diciamo gli inglesi think globally act locally cioè questo questo lotto come stava esplodendo la globalizzazione tutti parlavano di globalizzazione e si diceva pensa alla informati pensando che sei abitante del mondo quindi impara l'inglese gira per il mondo pensati come cittadino del mondo che è molto bello tra parentesi perché i giovani sono così quindi la globalizzazione cioè quindi pensa concepisci la tua vita pensandoti globalmente poi agisci localmente quindi vivi a primiero poi tu stai lì e quindi la tua azione è locale ma il tuo pensiero è globale io oggi direi quasi il contrario pensa localmente e agisci globalmente che significa proprio che sono degli slogan che vanno presi sempre come punti di partenza però vuol dire qualcosa cioè vuol dire che nel tempo di oggi la forza di un'impresa la forza di una anche di un'impresa commerciale non solo non parlo solo di un'impresa che fa frutta vino che evidentemente sarà sempre legata al territorio ma anche un'impresa di artigianato un'impresa che produce delle cose come abbiamo ascoltato prima energia eccetera cioè con quello che si chiama oggi il vantaggio competitivo di un'impresa sarà sempre più legata al territorio dove sta cioè è lì che deve e quindi cosa vuol dire che deve conoscere il territorio deve guardarlo che deve conoscere il dialetto che deve girare l'imprenditore oggi deve stare in mezzo alla gente perché uno dei problemi di questi ultimi vent'anni che il capitalismo negli ultimi 20-30 anni ha preso dal territorio ma ha dato molto poco al territorio perché mentre il primo capitalismo anche italiano all'inizio del novecento le grandi imprese la Nero Sivicenza ma anche la stessa Pirelli Olivetti eccetera prendevano operai prendevano virtù civili ma davano al territorio dalle vacanze cioè tutti sappiamo questo paternalismo cosiddetto dei primi impenditori gli ultimi decenni le imprese hanno preso come se ma hanno dato poco invece oggi tutti stiamo capendo che la comunità è fondamentale quindi bisogna conoscere la comunità e bisogna riuscire a vendere diciamo a vendere nel senso buono cioè in un'ottica anche commerciale i valori del nostro territorio io vengo ora sono ad Ascoli che è la mia città di origine e Ascoli è famosa fra altre cose per l'oliva ascolana non so se qualcuno di voi l'ha mangiata veramente però attenzione chi è di Ascoli sa che l'oliva ascolana si mangia ad Ascoli non quella che si compra sul mercato perché che cosa sa l'ascolano tipo me abbastanza esperto anche di mangiare sa che l'oliva ascolana tu la devi mangiare qua perché ci vuole quel vino quella terra quell'oliva quell'ambiente attorno a quell'oliva il sapere delle donne che ancora hanno insegnato come si facevano veramente queste olive che se sembrano semplici e molto complicate allora se tu non conosci il territorio non frequenti la gente non parli con le persone l'oliva ascolana non la sai fare anche se la produci però qual è e quindi qual è la sfida di un imprenditore ascolano è il dire volete veramente l'oliva ascolana genuina venite ad Ascoli così tu insieme all'oliva gli vendi un'esperienza cioè gli vendi il vino rosso piceno il pecorino gli vendi il turismo il territorio cecco d'ascoli eccetera eccetera e quindi devi dire l'oliva ascolana vera è questa quindi devi venirci nei limiti dell'impatto ambientale questo è tutto un altro discorso le di aerei comunque però poi mentre porti il cinese ad Ascoli per l'oliva ascolana vera devi vendere l'oliva ascolana in Cina quindi pensa locale e agisci globale cioè questa è quindi perché non possiamo pensare oggi che tutto torna vedete c'è anche questa retorica anche comprensibile del chilometro zero che tutto va fatto a livello locale sì però insomma ci abbiamo messo duemila anni per scoprire che il mondo è più grande del mio paese no cioè ogni cittadino del mondo ha il diritto di venire a vedere le pare di San Martino non solo voi e voi avete il diritto dovere di andare a vedere il Louvre di Parigi cioè non è che possiamo ora diciamo tornare a un medioevo dove ognuno stava nel suo castello con le mura con le guardie perché questa è una forma diciamo di nostalgia sbagliata del passato che uno ha paura dell'inquinamento ha paura dell'ambiente e si chiude in economia di sussistenza questo vuol dire tornare indietro di secoli non possiamo immaginarlo così in mondo o che la gente siccome l'aereo inquina si vorrà vedere il pinturicchio di spello la cappella la cappella baglione dovrà soltanto fare il tour virtuale e no perché cosa accadrà se fosse questo che i ricchi verranno con lo yacht che non inquina e tutti i dati normali e poveri non metteranno mai le cose belle del mondo questo non c'è un problema di tipo redistributivo che è enorme di giustizia allora come cambia il lavoro in questo per concludere perché già il tempo vola siamo già alle 9 e un quarto allora in un contesto dove la comunità è fondamentale e lo sarà sempre di più una comunità che è intrensicamente globale però presso tutto devono cambiare le scuole io so che in Trentino bravi insegnate già nelle scuole elementari della cooperazione però se le scuole io ho i miei nipoti qui che vanno a scuola media ed elementare che conoscono la storia degli estili e dei babilonesi non sono niente dei piceni che sono anche nel loro piccolo un piccolo un popolo che ha fatto una cosa di buono cosa voglio dire se il territorio è importante i piani di studio devono più essere centrati sulla cultura locale cioè bisogna insegnare anche nelle scuole dove vivi perché che cosa c'è dietro quel territorio e soprattutto bisogna immaginare poi a livello di scuola di scuola universitaria dove io insegno io insegno facoltà di economia da sempre cioè se gli imprenditori di domani saranno sempre più almeno in Italia orientati a lavorare nell'arte nel turismo nella cultura nei territori tu devi fare meno powerpoint meno contabilità e devi fare più storia dell'arte più scienze umane nelle università di economia perché questa roba qui sarà molto più utile delle tecniche di contabilità che le impari in tre giorni quando vai a lavorare quindi le scuole in università devono essere riformati curriculum dell'università almeno quelle diciamo di economia e scienze politiche che formano impenditori con più attenzione alla storia all'arte alle dimensioni culturali di un territorio questo è il mio pensiero e quindi sarà anche nella comunità che nasce il lavoro qui volevo fare un ultimo passaggio prima di concludere per capire che cos'è il lavoro pensiamo un po' in questi giorni alle olimpiadi no? le olimpiadi ho anche fatto un articolo su questo insomma è uscito nel giorno sbagliato perché è uscito domenica e non abbiamo vinto quei due ori pazzeschi non era proprio il kairos giusto però insomma ho fatto un articolo alla venire domenica dove ricordavo dice bene c'era le olimpiadi tutto bello però attenzione perché lo sport ha alcune virtù ha alcune grandi virtù in questi giorni lo stiamo vedendo l'elaborazione della sconfitta la resilienza il rapporto tra impegno e risultato il saper ricominciare quello stupendo gesso di Tamberi che è stato dopo il pugno dei cubani la cosa più bella il simbolo più forte delle olimpiadi Vanessa Ferrari le 5 operazioni che ricomincia questo è un valore infinito per i giovani e per tutti la tenacia ma anche la lealtà e rispetto per l'avversario abbiamo visto anche questi abbracci questi pianti infiniti eccetera però lo sport non è sempre metafora della vita il problema grande dello sport è che quasi sempre quando uno piange quando uno ride l'altro piange cioè è molto forte il ranking cioè i primi intanto che noi anche nelle olimpiadi diciamo non solo negli europei che gli inglesi hanno buttato via la maglia d'argento ma ancora oggi ieri sera sentivo Yuri Kiki che dicevano certo dobbiamo battere la Francia se vinciamo un oro siamo sopra di loro cioè il medagliere diventa una specie di che noi siamo molto amanti di questa dimensione agonistica primi secondi terzi quarti quindi allora la vita il lavoro non è così nel lavoro non piange nessuno quando funziona cioè nell'economia l'economia è un luogo quando funziona dove la gente vive la reciprocità e ridono tutti cioè quello che si chiama in economia il mutuo vantaggio questo libro che ho preso per voi di un mio collega inglese un libro bellissimo La comunità del vantaggio che mi chiamo a Vantage che è una frase di un grande economista inglese Justin Hartmiller che diceva che cos'è il mercato cos'è l'economia è la comunità dei vantaggi reciproci cioè dove la gente fa qualcosa per un altro e l'altro fa qualcosa per te e tutte e due vincete non è che c'è uno che arriva terzo l'altro che arriva secondo l'altro che arriva prima perché vi faccio un esempio se un ragazzo fra noi il vostro figlio un nipote dopo aver fatto non so la scuola tecnica diventa un elettricista fa due anni in apprendistato e poi si mette in proprio lì nel primiero che cosa dovrà dire questo se gli scatta la metafora sportiva è un disastro chi è che devo battere qui i miei competitors di primiero quali sono gli altri elettricisti che devo vincere se ragiona così perde investe le sue energie nel modo sbagliato cosa deve dire questo ragazzo secondo voi a chi serve a primiero il mio lavoro questo è l'atteggiamento intelligente di un imprenditore quindi di immaginare un rapporto di mutuo vantaggio cioè il mercato è un network enorme di rapporti di mutuo vantaggio dove ridiamo tutti quando andiamo in pizzeria la sera se la pizzeria è onesta io mangio una buona pizza pago 15 euro forse in primiero 20 non lo so quest'estate pago 15 euro lui mi fa la pizza ci ringraziamo veramente non perché uno è stato sfruttato dall'altro perché usciamo tutti e due contenti da un rapporto allora perché dico questo perché il lavoro è una faccenda di mutuo vantaggio cioè se uno dovesse educare un giovane a dire diventa un buon lavoratore che cosa dovrebbe dire un giovane due cose coltiva la tua vocazione anche mia mia nipote che ora sta facendo l'ultimo anno di scuola di qualsiasi farò università zio tu che sei un professore per carità professore non sa niente del lavoro però insomma se vuoi un consiglio innanzitutto coltiva le tue passioni che cosa ti piace boh perché poi il problema dei giovani è che non sanno nemmeno quello che ti piace a volte cioè comunque coltiva la tua vocazione cercala se non è chiaro lavoraci dove ti senti che hai un punto di eccellenza perché l'eccellenza nella vita è molto importante c'è la vita anche qui tornando allo sport non è il decathlon che devi saper fare un po' di tutto in dieci discipline devi farne una bene di cosa che se ne fai dieci così così la vita non funziona devi trovare un qualcosa dove riesci bene sarà una cosa ma lì veramente come dire Mozart era per tante cose un disastro ma quando componeva era Mozart ora io non sono Mozart sono Luigi sono un disastro più di Mozart ma quando scrivo io sono Luigi cioè c'è qualcosa dove tu in me c'è anche la dimensione focolarina che spero di farla però c'è qualcosa dove tu dici bene io lì ho un'eccellenza quindi mi ci butto voglio farlo come lavoro come vocazione però attenzione mentre coltivi la tua vocazione devi domandarti ma a chi serve quello che faccio questa è fondamentale cioè c'è qualcuno che apprezza la mia vocazione o soltanto io quindi il lavoro è un'enorme cura al narcisismo che oggi è una malattia di massa è la nuova pandemia cioè perché ti costringe a guardarti con gli occhi degli altri ti dici benissimo tu hai una grande passione per fare violinista ma siccome nessuno ti paga forse devi fare cameriere no? intanto la sera non è che dici no io devo essere pagato perché sono un artista quindi il governo mi deve pagare queste cose da bambini no? cioè che finché lo fa un bambino va bene ma quando hai vent'anni basta quindi il lavoro è un equilibrio è un incontro tra vocazione e antinarcisismo cioè dove io devo far di tutto per coltivare la mia vocazione ma mentre la coltivo devo dire a chi serve quello che faccio che mi paga per mantenermi e non dipendere dagli altri quindi la vita è così è una vocazione dove io ti dico bene vuoi fare artista fallo fino in fondo buttati riesci fai come tamberi arriva fino in fondo ma se non riesci a campare facendo un artista fai il cameriere fai la stagione estiva datti da fare perché la vita è mutuo vantaggio non è soltanto guardare te stesso guardare gli altri che ti guardano quindi il lavoro quindi un'educazione al lavoro dei giovani è tra queste due dimensioni vocazionali e reciprocità il dire bene mi piace sì ma mi piace non basta come si dice come diceva Freud una delle cose belle che ha detto si diventa adulti quando si passa dal mi piace dal principio del piacere al principio di realtà anche se mi piace ma non funziona devo cambiare e quindi questo è il grande messaggio del lavoro che l'economia di comunione ha sempre portato avanti Chiara diceva sempre innanzitutto diceva il focolarino è un lavoratore e io mi ho sempre ricordato a queste cose non siamo religiosi non siamo frati siamo lavoratori e poi Chiara diceva il governo di comunione è un grande movimento di lavoratori di gente che lavora perché il lavoro è una cosa enorme e quindi certo ci sono gli imprenditori ma l'imprenditore è un lavoratore non guardiamolo come uno speculatore perché l'imprenditore lavora e se non lavora non è un imprenditore concludo il prossimo di lavoro citando un best seller diciamo di questi discorsi sul lavoro che è Primo Levi che vuole conoscere di più magari per i suoi scritti su Auschwitz eccetera Primo Levi ha scritto anche delle cose molto belle sul lavoro e in particolare in un'intervista che ha fatto prima di morire lui raccontava l'esperienza di Auschwitz e diceva l'Auschwitz mi ricordo un fatto curioso sul lavoro c'era un muratore italiano di Bergamo che odiava la guerra odiava il lager odiava il cibo odiava tutto ma quando lo mettevano a tirar sui muri li faceva dritti e solidi non per obbedienza ma per dignità cioè questo si fa pure ad Auschwitz quindi cosa vuol dire che il lavoro è questa capacità di fare le cose bene di fare le cose con eccellenza di dare un valore intrinseco a quello che fai anche se nessuno ti vede anche se nessuno ti applaude però mentre sviluppi questa capacità devi sempre ricordarti che il lavoro è un bene relazionale è qualcosa che riguarda anche gli altri che ti riconoscono e ti ricompensano se fai cose utili e se fai cose inutili possono anche piacerti ma non vanno bene quindi questo io credo che sia anche ciò che la pandemia ci ha insegnato ci ha insegnato che il lavoro è una cosa molto seria i lavori umili sono molto seri chi ci portava a casa i pacchi durante la pandemia chi ci puliva le strade le costrade eccetera e che quindi il lavoro è veramente colui che fonda la Repubblica fonda la vita e ci ricorda che il lavoro è un rapporto è guardarci con gli occhi degli altri questo vale per tutti ma vale ancora di più per i giovani quando cominciano a pensare al loro lavoro il tempo è finito mi fermo qui e grazie 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 professor Bruni per questa sua relazione che ci ha fornito degli elementi per noi che da alcuni anni organizziamo il forum sull'economia di comunione economia civile molto importanti rappresentano quasi ce li saremo sicuramente annotati tutti parlo di cura comunità beni comuni per come li ha declinati lei potrebbero veramente rappresentare la bussola per guardare dentro il nostro sviluppo locale grazie davvero per questo suo intervento io lascerei adesso un attimo la parola a Roberto Di Pietro che ha diciamo così il compito che ci siamo un po' affidati all'interno del gruppo di porre alcune domande e di verificare nel frattempo c'era la possibilità essendo su Facebook anche di intervenire di capire se ci sono state delle domande e se no chiederei proprio a Roberto Di Pietro di introdurci un attimo in questa fase di approfondimento sì allora sono arrivate alcune domande e altre possono ancora venire ma prima ancora sono arrivati dei saluti di Silvano Rogero dal Peru e di Cesario Mura che ti dice buonasera un abbraccio dal Brasile questo mi sembrava abbastanza così interessante da dire poi c'è un gruppo di domande una la introduce Maria Stella Marini che è qua e che può infatti mi domandavo ma Maria Stella che fa lì? ecco fa la domanda sì a parte che sono del gruppo che ha coordinato quindi vedete siamo un po' tutti i coordinatori di questo di questo evento insomma di questi forum ecco di primiero io sono proprio di primiero ecco mi stimola cosa faccio tra il resto sono architetto per cui tutti questi accenni alla città relazionale a come si ricreano no? si può ripensare la città che deve essere cambiata no? o anche l'abitazione centro delle relazioni penso che questo appunto ci farà ripensare tante cose sia a livello urbano che a livello proprio di abitazioni mi piace questa idea appunto dove il centro di tutto deve essere sia nel piccolo che nel grande appunto il contatto penso tra il resto che anche con la pandemia forse quello che ci è mancato nello smart working era proprio la questione di di poterci rivedere non mi sono mancate le riunioni mi sono mancate i post riunioni no? quelli dove fai una parola con il collega una parola con altri ed è là che crei appunto crei delle connessioni no? crei proprio anche questo questo relazionarsi no? cioè per cui allargarsi allargare contaminarsi ecco nel senso buono un po' però quello che volevo chiedere era era questo noi lei cioè quando parlo di economia che non è il mio settore no? sento parlare da tanti anni che ci vuole sempre una crescita no? e sembra che questa crescita sia l'unico indice di salute dell'economia no? da un lato mi chiedevo ma è possibile questa crescita ma è giusta anche questa continua crescita forse appunto la crescita dovrebbe essere crescere in tutto quello che lei ha detto no? crescere nei valori crescere nelle relazioni e crescere nell'eccellenza non tanto nell'allargarsi ecco volevo capire come vedi questa cosa grazie tanto sì no la vedo bene sul tema della crescita dico solo una cosa che sono sempre tematiche complesse non perché quando un relatore non sa cosa dire è un tema molto complesso per uscirne in modo elegante non solo per questo perché è veramente complesso cioè faccio un esempio noi in questi due anni abbiamo perso più o meno il 10% del PIL anche i più critici del PIL me compreso non siamo stati contenti di aver preso il 10% cioè difficile trovare qualcuno che abbia detto bene così abbiamo fatto la decrescita felice perché abbiamo perso il 10% del PIL quindi cosa voglio dire che c'è decrescita e decrescita cioè è come dire la povertà scelta è la povertà subita cioè un conto noi vediamo due poveri ma se uno con la povertà l'ha scelta perché è un francescano è una cosa se l'altro l'ha subita dalla vita la povertà è la stessa ma sono esperienze umane totalmente diverse questo va anche per la decrescita se noi avessimo come popolo come paese anche se ormai è difficile farlo come Italia se non almeno come Europa come mondo deciso 10-15 anni fa di iniziare una ritirata dalle fonti energetiche insostenibili di aver fatto una ritirata dai beni la plastica e magari tutto questo fosse stata una scelta libera e democratica e magari che avrebbe anche comportato una certa diminuzione anche della produzione materiale che si misura col TIL questa sarebbe stata una scelta molto diversa che precipitare improvvisamente meno 10 perché c'era un virus allora questo noi dobbiamo sicuramente cambiare il modello di sviluppo dobbiamo liberamente decidere che si può vivere con meno merci e con più beni relazionali dobbiamo però dobbiamo convincere i poveri anche dobbiamo convincere l'Africa che non ha ancora il frigorifero che non hanno gli automobili cioè su queste cose io che grazie a Chiara Lubi che ho girato davvero il mondo non per modo di dire questi 23 anni che mi sono occupato di mille progetti di sviluppo quando si va a parlare di queste tematiche in Sud America in Asia in India in Bangladesh nel Burkina Faso è difficile parlare di queste cose perché loro ci dicono certo voi potete permettervi il lusso della ricrescita noi dobbiamo semplicemente sopravvivere quindi dovremmo fare ecco un patto globale questo vede non per fare il costo troppo complesso però dietro la protesta dei gilet gialli bloccati dal virus ricordiamoci non da loro stessi in Francia lei si ricorda qual era il motto dei gilet gialli io ero in Francia in quel periodo lì non ricordo bene voi cioè il mondo la politica vi preoccupate dalla fine del mondo per l'ambiente noi dalla fine della settimana che non ci arriviamo cioè cosa significa che spesso oggi sta accadendo paradossalmente che il conto del cambiamento climatico la pagano più i poveri dei ricchi cioè faccio un esempio se oggi uno vive in Norvegia in Danimarca e tra cinque anni anche in Italia e non ha una macchina ibrida non va a lavorare ma le macchine ibride costano 40.000 euro se oggi uno fra qualche anno se una persona ha un diesel perché non ha più di 5.000 euro per mettersi una macchina più non può entrare nel centro storico allora cosa succede che questa gente vanno a piedi e invece la persona benestante va con la macchina elettrica che ancora oggi anche con gli incentivi costa 45.000 euro cosa voglio dire che dietro queste tematiche c'è sempre l'enorme tema della disuguaglianza l'enorme tema delle scelte libere e non forzate e bisogna sicuramente cambiare non abbiamo molto tempo io sono fra quelli che crede che siamo già oltre il tempo massimo che certe cose sono irreversibili soprattutto in termini di cambiamento climatico noi lasceremo un mondo pessimo ai nostri nipoti quindi dobbiamo assolutamente non 15 anni per arrivare all'abolizione dei diesel ma tra un anno però mentre facciamo questo non ci dimentichiamo dei poveri non ci dimentichiamo della gente che non ha il lusso di potersi di potersi preoccupare dell'ambiente che deve semplicemente sopravvivere e deve poter mangiare lui lei e i figli occorre fare entrambe le cose questa è una vera sfida cioè abbassare l'impatto della crescita addirittura decresce io sono di questo ligno anche per certe cose soprattutto però mentre si fa questo politicamente lavorare molto 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 perché perché questo sia non venga fatto a spese dei più poveri ecco ci sono altre due domande e poi credo che Bruno Turra volesse fare anche lui una domanda eh sì appunto appunto allora intanto dico questo c'è stato nel 2008 c'è stata la concentrazione capitalistica che sembrò aver raggiunto l'apice del suo sviluppo e da allora sembra ci chiediamo che sia un po' incerto questo progresso dello sviluppo ehm questa concentrazione capitalistica eh ci sono segnali all'orizzonte di un tramonto di questo sistema capitalistico o quanto o meno della fine di questa dittatura e poi mi viene in mente anche questo viene in mente a me l'idea del massimo profitto che credo sia stata un'idea grossolana e scelerata quella di sacrificare tutti gli altri beni tutti gli altri valori a quello del massimo profitto cioè del dollaro in più queste cose questi sistemi che io credo siano devianti e perversi accennano a a a accessare ci sono segni in questo senso io vorrei dire di sì nel senso che come diceva qualcuno l'ottimismo della volontà è il pessimismo della ragione cioè l'ottimismo della volontà che è Gramsci qualcuno l'ultimo arrivato l'ottimismo della volontà mi porta a dire sì ma perché sì c'è anche un po' di ragione perché vede io sono tanti anni non perché sia particolarmente vecchio un po' sì ma non troppo però ho cominciato giovane diciamo a fare questo lavoro io da almeno 25 anni vado parlando ovunque di un'economia di comunione economia civile economia sostenibile ben prima del recovery plan eccetera però perché negli ultimi anni anche prima della pandemia io metto una data che è il 2015 che è l'uscita dell'incidica del Papa Francesco l'ha dato sì perché c'è più attenzione rispetto al passato perché questi discorsi di economia diversa dicono per dire l'economia civile che fino a qualche anno fa era una parola che non interessava a nessuno è diventata una parola che usano quasi tutti quasi come generatività cioè tu comunque vai la usano praticamente tutti i politici ora mi hanno coinvolto di fare una legge sull'impresa civile cioè cosa che so benissimo che sono delle mode mi sono molto attenti alle mode quindi bisogna sempre cambiare ogni tanto non affezionarsi troppo alle parole comunque perché oggi c'è più attenzione perché sono cambiate le pratiche cioè la gente voi c'erano prima cioè mio padre gli puoi fare tanti discorsi sul cambiamento climatico ma quello che ascolta è la fontanella che non c'è più cioè tu quando cominci a vedere che il mondo ti cambia veramente cambi il tuo mondo allora la plastica la gente ci fa più attenzione io non l'avevo mai fatto già prima della pandemia quando noi dovevamo fare il convegno col Papa Francesco D'Assisi nel marzo del 2020 quindi cominciamo chiaramente a fare tutto il lavoro come se 3.000 giovani nell'estate precedente nel 2019 prima della pandemia non mi era mai successo che la gente diceva non vengo per non prendere l'aereo perché io per motivi etici gli aerei non li prendo più ma professori cioè non è che parlavano cioè gente non mi era mai io per dire tre anni fa potevo fare un convegno con sulla cattedra una bottiglia di plastica oggi no se io faccio un convegno metto sulla cattedra una bottiglia di plastica qualcuno si alza e dice scusi ma di cosa ci parla di etica con la plastica cioè c'è stato un gagnamento molto veloce veramente un gagnamento molto repentino che un po' rallentano dalla pandemia questo è anche interessante dovremmo parlarne di questo perché la pandemia non è stata percepita subito come uno squilibrio ambientale ma come un problema sanitario quindi un pochettino c'era tutta diciamo l'onda detto fra noi è è un anno e mezzo che di Greta Thunberg inizia a ne parlare più diciamo Greta era arrivato al massimo di notorietà nell'inverno il suo discorso all'ONU nell'autunno del 2019 è stato il più importante il discorso politico degli ultimi dieci anni però quindi allora io dico da questo punto di vista qualcosa sta cambiando perché stanno cambiando i comportamenti delle persone cioè non si può pensare cioè la gente ha capito che l'ambiente è malato e che la casa brucia e questo lo ha capito per una bambina di 15 anni io penso che noi non ci rendiamo conto del magistero che hanno i adolescenti oggi cioè tutto questo movimento dei venerdì per il futuro Fridays for Future è un movimento di adolescenti non di giovani è un 68 che comincia a 15 anni cioè hanno ci hanno dato delle lezioni mostruose questi ragazzi e sono e hanno come dire un protagonismo ben più importante degli adulti quindi io dico qualcosa cambierà però per concludere l'ultima battuta cambierà se cambiamo noi però Roberto sì cioè noi stiamo cambiando ma non cambiamo ancora abbastanza io mi chiedo oggi come si può per chi ha la possibilità economica prendere una macchina nuova che non sia almeno ibrida ovvio costa un po' di più farei qualche sacrificio cioè ovvio che non possiamo chiederlo all'immigrato che appende 1000 euro al mese ma a un pensionato che appende 2500 sì cioè non possiamo fare una casa nuova a parte ormai non te la fanno fare più qui abbiamo anche l'architetto cioè non possiamo ristrutturare una casa o pensare un appartamento che non abbia già il top di gamma su tutti gli aspetti ambientali quelli indicatori e quelli facoltativi cioè anticipare la legge cioè non possiamo andare a fare la spesa e comprarci e portarci a casa le bottiglie di plastica cioè questa roba qui ormai anche al massimo quelle diciamo di plastica riciclabile se è vero perché la plastica è difficile molto da riciclare cioè non possiamo andare a fare la spesa tutti i giorni e non guardare insieme alle calorie degli yogurt e di zuccheri dei dolci di zuccheri etici e le calorie spirituali cioè i prodotti non sono soltanto cioè le etichette non sono soltanto calorie e zuccheri sono anche filiera pomodori dove vengono cioè noi dobbiamo cominciare fortemente a cambiare di più di quello abbiamo fatto finora la pandemia ci ha rallentato perché tutti siamo stati presi dalla vita prima un vivere e quindi filosofare però dobbiamo assolutamente riprendere lo stesso ritmo del del 2019 cioè cambiare fortemente velocemente un po' lo stiamo facendo con questo recovery plan con questo piano importante dobbiamo farlo di più io sono abbastanza contento non tutto contento di come il governo sta gestendo questa cosa tu non mi puoi mettere al ministero dell'economia un finanziere poi mi metti accanto il ministero della transizione ecologica mi devi mettere al ministero dell'economia un ecologista perché finché mi fai l'economia in mano alla banca d'italia poi mi metti accanto l'ecologista siamo sempre nella logica dei due tempi chi fa i danni e chi rimedia tu mi devi mettere il ministro dell'economia un Giovannini cioè uno che ha una storia ecologica e non uno con tutto rispetto che viene dalla finanza internazionale come Franco cioè perché perché il mondo è così cioè pensa in modo dualistico che è quel modo con cui abbiamo distrutto il pianeta l'economia fa l'economia e poi c'è c'è l'ecologista che fa l'ecologista no perché l'economia se non è intrinsecamente ecologica è diseconomica questo è il punto grazie secondo me è in mia opinion sì 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 beh è abbastanza illuminante peraltro no no anche il mio mestiere è quello di convincere quindi non ho c'è molto retorica appunto adesso mi pare che ci sia Bruno Turra che voleva parlare di o di beni relazionali oppure di di internet delle cose di cambiamento del Bruno ascolta in verità mi sorgeva una domanda che è un pochino questa sempre cercando di mantenere un po' un radicamento anche sul territorio no sì giusto ora pare a me e chiedo un parere in proposito ovviamente che in questi ultimi tempi in questi ultimi decenni diciamo ci sia nato un connubio abbastanza pericoloso per non dire perverso tra un certo tipo di burocrazia e un certo tipo di mercato e che questo connubio sia radicalmente contrapposto all'idea dei beni comuni puoi dirlo un pochettino meglio che non capisca perfettamente dicevo un connubio tra la burocrazia e mi sto riferendo in questo momento alla burocrazia europea soprattutto con tutte le sue regole che vanno a normale fino agli estremi dettagli che sono la produzione agricola piuttosto che tutto il resto la logica del mercato anzi direi la logica mercatista to cure tutte le soluzioni sono demandate al mercato e dall'altro lato la tutela dei beni comuni che a mio modo di vedere richiederebbero la presenza di istituzioni parlo di istituzioni sociali e mi riferisco ad esempio alle istituzioni sociali che ebbe modo di studiare la buonanima di Öström la Elinor Öström quando studiò i beni collettivi non le sembra che le comunità per poter recitare in qualche modo un ruolo dovrebbero ricostruire in qualche modo o avere la possibilità di ricostruire delle istituzioni sociali che possono in qualche modo fungere come un terzo punto una terza leva rispetto a quella che è la burocrazia o che una volta si diceva era lo Stato o quel che ne è rimasto è il mercato e che senza questo siamo letteralmente dei singoli individui le cui uniche chance sono quelle di provare nel piccolo a cambiare i propri comportamenti ognuno di noi ma con degli effetti poi sul sistema globale che sono francamente risibili sì dottor Turra due note su questo cioè io capisco bene intuisco quello che le dice su questo conflitto anzi questo inciucio connubio tra una certa burocrazia e un certo mercato però provo a dire due cose su questo anche l'Europa anche quella burocrazia europea è una forma di bene comune cioè cosa voglio dire cioè queste istituzioni europee che a noi ci arrivano spesso ci arriva spesso il prodotto finito che non sempre capiamo e ci complica la vita anche perché sono il frutto di un lavoro che è partito nel dopoguerra quando mettemmo insieme l'acciaio e il carbone che avevano fatto che erano stranacendo della seconda guerra mondiale noi dicemmo mai più alla guerra mettendo in comune le due risorse acciaio e carbone e la cieca cosiddetta che erano state al cenno della seconda guerra mondiale fu un atto profetico enorme tanto che i tre fondatori sono oggi tre beati Schumann Adenauer il vostro De Gasperi cioè sono stati delle profezie queste da lì si è cominciato a costruire un ragionamento sono nati istituzioni sono nati uffici sono nati burocrati e come sempre succede il carisma diventa istituzione e l'istituzione se non è vivificata dallo spirito diventa pesante ma se oggi non c'è qualcuno in Europa che si occupa dell'Europa l'Europa finisce perché come tutti i beni comuni si sono tendono come lei sa essere distrutti se non c'è l'accudimento quindi se oggi non c'è amore per l'Europa se oggi noi in Europa non le vogliamo bene non la benediciamo ma la malediciamo prima un po' finirà quindi torneremo al Medioevo dove ognuno sta nel suo castellotto con i suoi dicevo prima la sua fortezza ma non è il futuro quindi dobbiamo riuscire a capire che c'è sicuramente da vivificarla però non c'è allora cosa voglio dire come siccome lei vedo che ha citato la Ostrom conosce il dibattito il grande tema della Ostrom con cui c'è vinto il Nobel in piena resa economica nel 2009 questo è anche interessante una specie di di punizione agli economisti ufficiali darlo a lei che non era neanche un economista ma era una scienzione politica e una storica delle istituzioni comunque lei che cosa ci insegnava nei suoi libri che un bene comune dalla magnifica comunità della Val di Fiemme che ho conosciuto in Trentino a una comunanza di Pascolo in una valle eccetera eccetera un bene comune a una spiaggia del mare libera un bene comune si salva se da bene di nessuno diventa bene di tutti questo è il suo teorema è questo poi ci ha fatto il teorema questo è il cuore cioè un bene comune è distrutto se bene di comune viene inteso dalla gente bene di nessuno come dicevano i romani res nullius se invece quello stesso bene viene percepito per un cambiamento politico civile relazionale culturale improvvisamente il bene di tutti quindi anche mio guai chi me lo tocca quindi diceva la Ostrom tutta la fatica di una comunità e far passare i beni di nessuno i beni di tutti attenzione anche l'Europa è così se oggi l'Europa diventa il bene di nessuno noi la distruggiamo come una spiaggia che diventa una pattumiera ci buttiamo tutte le cose che non vogliamo a casa e quindi questo è un primo è un primo tema che che volevo dire poi vedi il tema della della comunità che rinasce cioè non c'è nulla di più complicato che creare istituzioni civili perché le istituzioni sono ordine spontaneo e come sentiero di montagna lei sa che il grande esempio che i teorici dei beni diciamo delle convenzioni delle istituzioni fanno quando voglio spiegare che come nascono le istituzioni fanno il sentiero di montagna no? cioè nessuno lo crea ma tutti lo creano passandoci e i giorni in cui smettono le persone di passarci il sentiero torna alla foresta quindi lo creiamo tutti senza volerlo creare passandoci tutti i giorni no? allora le istituzioni non è che tu gli dici ora benissimo ora facciamo nascere a primiero un'istituzione facciamo una riunione facciamo un tavolo con questa tavolite acuta che è la malattia dell'Italia facciamo l'ennesimo tavolo ci mettiamo tutti insieme e facciamo un'istituzione queste sono le cose migliori ma non fa niente tutti lo sappiamo perché le istituzioni rinascono facendo altro tu stai insieme o da cose antiche tanto che una delle altre cose che ha dimostrato da Ostrom che una volta che un'istituzione è interrotta non la ricostituisci più cioè se tu interrompi una pratica antica è impossibile farla ripartire perché non è come far rientrare il dentifricio nel tubetto non so se avete mai provato o no io non ce la faccio cioè che è una grande definizione di entropia cioè non ce la fai cioè quando tu interrompi qualcosa farla ripartire è pazzesca ecco perché bisogna evitare che le grandi istituzioni muoiano cioè tenere in piedi una comunità tenere in piedi un circolo anche un circolo culturale tenere insieme un teatro popolare tenere anche insieme un gruppo della parola di vita perché una volta che tu li interrompi non li ricrei più quelli magari ne lascerà un altro e chissà come e di chissà da quale parte quindi sono tematiche complesse e fate bene a occuparvele grazie grazie a voi grazie professor Bruni chiedevo a Roberto Di Pietro avevi accennato che c'erano delle domande su Facebook c'è una osservazione di Maria Calabrese che dice è vero lo sport è un esempio bellissimo perché parlava degli olimpionici prima ma quando entra in campo la corruzione saltano tutte le virtù comuni per salvarsi solo nelle eccezioni singole non so se sia una domanda o una un'osservazione d'accordo questo vale anche per il mercato sì ecco sì e poi se non ci sono altri c'è un'altra domanda che leggo adesso così in diretta serve democrazia anche nelle istituzioni europee dice Roberta Caffarotti maggiore vicinanza della società civile nei processi decisionali sarebbe auspicabile sì che si chiama il principio di sussidiarietà con cui nasce l'Europa che l'Europa ha tra i suoi principi formativi questo principio di sussidiarietà però poi come succede nella vita si comincia con i principi e si finisce con gli interessi poi ce lo scordiamo però l'Europa nasce sussidiaria cioè come dire l'Europa non interviene se quella cosa la si può fare con la stessa efficienza a un livello più basso questo fa parte proprio della carta dei principi di base da tanto di Lisbona eccetera eccetera però poi bisogna metterlo in pratica come tutte le cose abbiamo una costituzione bellissima poi abbiamo l'Italia che non è proprio la foto di quella costituzione sì ecco da ultimo ma questa mi sembra una domanda da una tonnellata noi siamo robusti siamo robusti ma cioè la terza o quarta l'involuzione industriale l'internet delle cose in che modo cambieranno stanno cambieranno l'aspetto del lavoro in che modo cambieranno la prospettiva economica mondiale mi sembra un po' grossa no no va bene sempre un'occasione per dire qualcosa perché come si dice non esistono domande sbagliate sono sempre le risposte che bisogna riuscire a dire le cose sensate e arrivare alla domanda perché ognuno anche perché spesso la gente che fa delle domande non è che sa sempre che cosa vuol dire cioè ha un intuito ha un'idea per la testa però non è sempre una domanda formalizzata che ci vorrebbero ore e ore quindi bisogna saperlo di qualcosa cioè io credo questo cioè che l'economia mondiale non è altro che il risultato dell'economia locale cioè cosa voglio dire noi oggi vediamo le Olimpiadi a me mi colpisce sempre quando siccome c'è una trasmissione serale che tanto vedo quando c'è tempo che fanno sulle famiglie diventano una specie della vita in diretta che vanno a intervistare a parte queste Olimpiadi è una festa delle famiglie italiane cioè tu vai dentro le famiglie sono tutte uguali sorelle madri nonne cioè l'Italia è vero che sono magari un po' separate divorziate qualcuno però la famiglia non c'è un atleta che vinca una medaglia che non dica lo dedico alla mia famiglia c'è una cosa stupenda ma comunque a parte questo una delle cose che tu vedi quando vanno nelle famiglie vedi questi ragazzi che hanno cominciato a fare sport negli oratori nelle piccole società ciclistiche trentine che quelle cose dell'amatore che ci mette i soldi suoi per le magliette per le biciclette cioè quanta gente in Italia sostiene lo sport con i soldi suoi tutti lo sappiamo la solità di atletica di Padova chiaramente ci sarà un imprenditore che magari il ragazzo correva e ci mette 10.000 euro allora cosa voglio dire dietro i risultati spettacolari che si vedono in Olimpiadi c'è tutto un mondo di sport che si fa tutti i giorni in tutto il mondo e se quello sport in un paese è sano è vivo è bello produce dei campioni allora l'economia globale è la stessa cosa cioè non è che l'economia globale viene da Marte viene dalla Luna viene da noi quindi voi pensate che cosa ha prodotto un'azione di una quindicenne 16enne come Greta in termini di economia se voi guardate la pubblicità delle automobili la pubblicità di prodotti che fino a qualche anno fa ignoravano completamente l'ambiente oggi cominciano con il verde con l'impatto ambientale questo qui non è che l'ha fatto l'economia globale ma alcuni giovani che si sono messi a protestare e hanno cambiato il mondo l'ha fatto il Papa l'abbiamo fatto noi tutti i giorni andando a fare la spesa quindi non leggiamo l'economia e poi è ovvio ci vorrà pure l'economista chi studia chi va in Parlamento chi va in Europa però il mondo è un network di rapporti stupendi ognuno nel suo piccolo poi oggi con internet vedete il mondo è veramente cambiato se oggi una multinazionale fa una porcheria in Africa perché fa dei danni enormi all'ambiente basta che un ragazzo faccia un post su Facebook e questi qui sono completamente svergognati e devono cambiare non è che ci voleva come una volta l'inchiesta del giornalista che andava giù a spese di chi che poi faceva il servizio che nessuno leggeva oggi da questo punto di vista il controllo dal basso delle imprese è molto forte ed è molto economico da fare se vogliamo farlo noi quindi possiamo influire possiamo influire sul mondo cioè io non è che abbiamo influito molto ma tutto il lavoro quello che abbiamo fatto sull'azzardo in Italia che è arrivato al Parlamento che ha cambiato delle cose importanti anche se ancora non basta però si è messo in moto qualcosa perché un giorno due ragazzi di Roma i miei amici avevano 20 anni 22 anni stavano prendendo il gelato a mezzanotte vedono che entra un ragazzo in carrozzina in una sala giochi vanno a dire a questo ragazzo e non succede che cosa fa un ragazzo a mezzanotte in carrozzina in una sala giochi va dentro e vedono che il ragazzo va a riprendere la mamma che stava lì a giocarsi i soldi nella pensione del figlio e questi dicono basta non possiamo più essere complici di un sistema dell'azzardo che fa queste cose cominciò slot mob abbiamo fatto ormai sono 10 anni ora facciamo 10 anni nel 2022 siamo stati in Parlamento siamo stati da due ragazzi che hanno seguito un compagno in carrozzina cioè non è che bisogna immaginare grandi azioni all'economia mondiale all'economia mondiale siamo noi cioè tutta la rivoluzione dei diritti dei neri in America nasce da Rosa Parks che il giorno che doveva alzarsi dal 59 dal Pullman perché una donna nera quando entrava un uomo bianco doveva lasciargli il posto lei non si alza va in galera viene arrestata dalla polizia di Montgomery il giorno dopo per un anno tutti i neri vanno a lavoro a piedi senza prendere più i bus cioè una non è che bisogna immaginare dopo fra quei giovani che andavano a piedi c'era Martin Luther King sapete come è della storia cioè non dobbiamo immaginare l'economia mondiale come una cosa lontana è fatta di tanti di questi atti l'importante è farli fino in fondo e farli insieme bene bene alle 10 mi sembra che il tempo perché a Tremiero ci lavora diversamente da altre parti d'Italia quindi si va a letto io ringrazio ringrazio alla fine di questo nostro incontro Bruno Turra ricercatore sociale che ci ha permesso di presentare al professor Luigi Nino Bruni la nostra il nostro modello di sviluppo e anche con dei dati molto significativi ringrazio il professor Luigi Nino Bruni che ci ha dato degli elementi importanti che ci serviranno anche per ricalibrare la nostra azione all'interno del forum dell'economia quindi è un saluto ma anche un arrivederci ai prossimi appuntamenti grazie a tutte le persone che ci hanno seguito è stato un incontro molto importante e quindi arrivederci a tutti grazie a voi Walter a tutti quanti grazie Roberto grazie a tutti